Auto di oggi, auto di ieri, carrozzeria Orange. Il bosco dove viveva Johnny Bigot, il ragazzo di campagna, protagonista dell'omonima canzone di Jack Berry, pioniere del rock n'roll, non doveva essere troppo diverso da quelli di Untamed. Qui, ai piedi del Cervino, da 11 anni, con la sola eccezione dello stop pandemico, si tiene il Vols n'Roll, il più grande radnudo di motori Volkswagen raffreddati ad aria in Italia. Per tre giorni a fare da padrone è il ritmo che ha stregato il mondo a partire dagli anni 50, il rock n'roll. Siamo un gruppo di ragazzi della Svizzera interna e abbiamo scelto questo posto per un unico motivo, condividere il nostro hobby con degli altri pazzi che stanno qui in giro. Arrivano da altre regioni d'Italia ma anche da Svizzera, Francia e Olanda. La passione comune è quella per i motori. Passione che ognuno declina a modo proprio. Tanti bambini venivano a chiedere e diventavano mati per queste Hot Wheels. Ne avevo tante, non sapevo dove metterle. Ho detto faccio questo mobile viaggiante. E questo, signore e signori, è il best of show. E se molti sono i nostalgici dell'epoca in cui si andava ai concerti in van senza scarpe con indosso un paio di jeans, molti altri non l'hanno mai vissuta. Ma a Dante la differenza non si nota. Grazie a tutti.